Sanità non è solo covid. Parallelamente allo sforzo di medici e infermieri per salvare vite delle persone colpite dal coronavirus, negli ospedali prosegue senza sosta anche l'attività ordinaria. Una bella storia di sanità arriva dall'ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebene Fratelli di Benevento, dove una paziente napoletana di 78 anni già sottoposta per 14 volte ad interventi chirurgici di protesizzazione dell'anca sinistra, revisioni multiple ed infine l'asportazione completa dell'anca presso un osocovi regionale ed extra regionale è stata operata con successo a Benevento. Un intervento importante che ha restituito alla paziente costretta da sei anni su una sedia a rotelle e la mobilità, grazie all'equip guidata dai chirurghi Antonio Piscopo, Salvatore D'Aurea, Marco Molfini, Stefano Cacciapuoti. Non c'è arrivato al punto che non poteva il suo osso sostenere alcun altro apparato protesico, per cui questa signora era ormai circa sei anni che non riusciva più a camminare. Il risultato è stato quello di riuscire a posizionare una protesi d'anca usando anche osso di banca in modo che la paziente potesse riavere una continuità tra il bacino e il femore e potesse tornare a camminare. Un lavoro di squadra per questo tipo di interventistica partito da lontano. Noi veniamo da una scuola ortopedica di oltre 15 anni. Nel nostro reparto abbiamo cominciato le revisioni con la venuta del dottore Piscopo.